tiramisù monoporzione facile veloce buonissimo da preparare tutta la ricetta completa la trovate anche sul mio blog giallo zafferano ora vediamo come si prepara versiamo in una ciotola alla panna fresca la montiamo bene io ho utilizzato tutti gli accessori e il frullatore della cecotec lascio tutti i link in descrizione con il codice sconto ora uniamo il mascarpone e continuiamo con le fruste prendiamo dei savoiardi spalmiamo di nutella mettiamo la crema appena preparata appoggiamo un altro savoiardi sopra ora passiamo nel caffè prepariamo dei pirottini e li adagiamo sopra e continuiamo così con tutti i savoiardi li prepariamo tutti sempre nutella crema e il savoiardo passato poi nel caffè dopodiché li decoriamo con la stessa crema formando dei ciuffetti o dei zig zag come ho fatto io infine decoriamo con delle codette ed è una vera goduria grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.